I nostri ragazzi oramai sono diventati la spina dorsale della nazionale di calcio a 5 per diversamente abili. C21 perché si identifica con la sindrome di Down. Sono già i veterani perché già hanno vinto un campionato mondiale svoltosi in Portogallo e oggi abbiamo una riconferma di partecipazione. Vogliamo dire i nomi di questi ragazzi? Il portiere che è stato premiato in Portogallo come il miglior portiere dei mondiali, l'Eucata Francesca. Poi abbiamo il difensore centrale, Simone Di Giovanni e poi abbiamo l'attaccante Matteo Simoni. Quindi diciamo che siamo la spina dorsale di questa formazione. Ovviamente riconfermarsi con una vittoria è sempre difficile, anche perché andiamo in Sud America dove i brasiliani che organizzano la competizione sono molto agguerriti. E poi c'è il Golden Gala a giugno e lì ci sarà un ragazzo impegnato nei 100 metri piani. Sì, Federico Giannini che farà i 100 metri piani al Golden Gala che è una manifestazione dove tutti quanti gli sportivi vorrebbero essere presenti e vedersi accanto un campione mondiale diciamo americano o australiano la dice lunga. Professore Ovvicini, al di là dell'aspetto puramente sportivo che comunque è importante per questi ragazzi, quanto e perché è importante per un ragazzo diversamente abile fare sport? Questo secondo il mio punto di vista e anche la filosofia della nostra associazione è attraverso lo sport noi raggiungiamo la massima autonomia. E' questo che fa sì che loro migliorano sempre di più la loro autostima e la loro autonomia. Io dico a quelle famiglie che hanno questi ragazzi qua che lo sport è un veicolo molto importante, specialmente nella disabilità intellettiva relazionale.